Vi faremo vedere un video che ci ha inviato una scuola, una scuola elementare credo, di Piacenza e vogliamo un'occasione per fare un appello a tutte le scuole d'Italia se volete mandarci dei video con delle canzoni, con delle cose, noi li faremo vedere loro sono stati i primi, ve lo facciamo vedere questa scuola di Piacenza guardate che carini che sono, prego prego Ciao Fiorello, ti presento la quinta B della Caduti sul Lavor di Piacenza Ciao Fiorello, ti presento la quinta B della Caduti sul Lavor di Piacenza Ciao Fiorello, ti presento la quinta B della Caduti sul Lavor di Piacenza definedi la quinta B della Caduti sul Lavor di Piacenza